Ultime notizie! Non ci sono né slime né mostri giganti oggi a Hot Wheels City. Immagino che tecnicamente questa non sia una notizia. Ah, e gli eroi locali Chase ed Elliot stanno consegnando hamburger per Burger Dash. E neanche questa è una vera notizia. E il lato positivo è che ancora non ci sono slime o mostri in città. Un hamburger per te, un hamburger anche per te. Ecco il tuo hamburger! Un altro hamburger per te, 3,70! Ho battuto il record, Elliot! Ha! 3,69! Sto mirando la tua corona, Chase! Dovresti prendere meglio la mira, allora. Quello non conta! Mi andrebbe un hamburger! Sì, i cetriolini sono i miei preferiti. A me non piacciono. Sono più un tipo da formaggio fuso. Una notizia bomba a ultime notizie. Dimenticate quello che ho detto su slime e mostri. Sono arrivati! È meglio che vi mettiate al riparo. Abbiamo un'allerta codice 2. Siamo messi molto male. Credo di sapere cos'è successo al piccione, seriffo. Cetriolini! No, credo che sia ben più grave di una brutta allergia alimentare. Ho trovato dei barili di slime a Burger Dash. Devono essere rimasti lì dall'ultima volta che Draven è venuto qui. E ora noi abbiamo consegnato gli hamburger con lo slime. Il piccione deve averne mangiato uno. Aspetta un attimo. Voi fate le consegne? Buono a sapersi. Ora, se volete scusarmi, devo occuparmi di un uccello gigante! Dobbiamo andare a riprenderci gli hamburger prima che inizino a mangiarli. Cetriolini! Abbiamo un bel problema. Credo di sapere chi è la persona giusta che può aiutarci. Cetriolini! Ma come ci sei riuscita, Quinn? Biforcazione del continuum spazio-temporale. Oh, sì, ma certo. Una cosa semplice, ovvio. Lo stavo chiedendo per conto di Elliot. Cetriolini! Cosa succede, ragazzi? Quello. Abbiamo proprio bisogno di un ingegnere aerospaziale intelligente e pragmatico. Innanzitutto dobbiamo catturare il piccione. E io so come fare. Com'è che si chiama quella specie di enorme raggio spaziale? È un micronizzatore interdimensionale aviario mutato. Puoi ripetere, per favore? Un riduttore di piccioni. Così fa molto più effetto, grazie. Attiratelo in uno spazio aperto, così possa avere una buona visuale. Ricevuto, Quinn! Ehi, bell'uccellino! Vieni qui a prendere un po' di slime! Devi tenerlo lontano dagli edifici! So esattamente dove andare. C'è un posto che i piccioni trovano irresistibile. Esatto, topo volante. Una bella statua. Sai cosa fare. Così piccolo, è davvero bellissimo. Ora cosa facciamo con tutto questo slime? C'è tre linee. E con Elliot? C'è solo una persona che può aiutarci. Qualcuno che conosce lo slime perfettamente. Wow! No! Non starai dicendo quello che penso! Accidenti! C'è tre linee! Attenzione! Ultime notizie. Chase ed Elliot hanno consegnato hamburger contaminati da slime velenoso in tutta la città. E ora sono tutti diventati degli zombie. Decisamente una notizia che non si sente tutti i giorni. A meno che non viviate ad Hot Wheels City. Quinn, sai cos'è più divertente di un gruppo di zombie che vanno a spattere dappertutto? No, cosa? Praticamente qualsiasi cosa. C'è tre linee! Quindi, quale sarebbe il piano? È Draven ad aver creato lo slime e ci aiuterà a sbarazzarci. Draven di solito non è molto collaborativo, essendo un genio pazzo e malvagio, sai com'è. E poi al momento non è in una prigione a gravità zero. Lascia fare a me. Allora, quale piano super tecnologico hai in mente per tirare fuori Draven? Una roba di fisica quantistica, immagino. Una cosa del genere. Resta dietro di me! Draven, salta su! Ehi, come va? Ti faremo uscire di qui se ci aiuterai a fermare lo slime. Ah, Quinn, abbiamo un allarme zombie al momento. Reggetevi forte! Ci inseriremo nel buco nero di ciambella! Lo sapevo che aveva pronto un piano di alta tecnologia. Cetriolini! Aspetta, hai appena detto buco nero! Questo piano proprio non mi piace! Cetriolini! Tenete duro! Ok, Draven, ti abbiamo liberato. Ora devi prepararci l'antidoto per lo slime. Come va? Gli effetti della gravità zero prolungata hanno evidentemente alterato la sua chimica cerebrale. Sicuramente il buco nero che abbiamo appena attraversato non è stato d'aiuto. Cetriolini! L'unica cosa che può sistemare gli effetti della gravità zero è il super loop. Dobbiamo solo superare tutti questi zombie! Ma come hanno fatto a prendere la patente? Ci penso io ad attirarli! Tu vai nel loop! Come là! Forse devo far riequilibrare le mie ruote? Ci voleva un bello tore di fresco in una macchina guidata da uno zombie. Credo che Draven abbia fatto abbastanza giri nel loop. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Queen Cosmic! Sembra che ancora non si sia ripreso dalla gravità zero. Tu ti chiami Draven! Sei un genio malvagio! Ti viene in mente qualcosa che possa annullare l'effetto dello slime? Qualsiasi cosa? Pensa! No! Non mi dice proprio niente! Cetriolini! No, amico, quelli non sono cetriolini. Sono solo un mucchio di barili sotto un telo che contengono l'antidoto allo slime. Il siero annulla zombie! Draven deve averlo nascosto lì! Beh, direi che ci sarà utile. Ma perché l'ha nascosto proprio qui? Non importa! Dobbiamo sporgere questo antidoto! Abbiamo tolto l'effetto dello slime! È bello riaverti qui! Ho fame! Possiamo prendere un hamburger con doppia porzione di cetriolini? Non sarebbe meglio una pizza! Ultime notizie! Draven, il nostro genio malvagio di Hot Wheels City, ha organizzato una festa di compleanno a cui sono invitati tutti i suoi amici mostri. Cosa mai potrebbe andare storpo? Che cosa? Draven si riunirà con tutti i suoi amici mostri velenosi? Già, è il suo compleanno e quelli sono i suoi unici amici. E poi non sono più velenosi. Ormai hanno tutti l'antidoto, ricordi? Questa storia non mi convince, Chase. E cosa ne dite di un castello gonfiabile? Ci sarà davvero un castello gonfiabile! Fantastico! Non preoccupatevi, amici miei. Tornerete ad essere mostruosamente velenosi molto presto! Che cosa hai detto riguardo ai mostri velenosi, Draven? Ah, no ragazzi, state tranquilli. Avevi un sorriso malvagio e ti stavi sfregando le mani. Sono solo emozionato per la festa! Adesso, se volete scusarmi, devo sbrigarmi ad andare al cimitero a dissotterrare altro slime velenoso. Velenoso! Cosa? Come hai detto? Era un modo di dire! Ciao ragazzi! C'è decisamente qualcosa che non mi convince qui. Vuoi dire che non ci sarà un castello gonfiabile? Vi do il benvenuto alla mia festa di compleanno! Potrete provare la gara di guida di Draven! Eseguite le vostre migliori acrobazie per atterrare sul castello gonfiabile e potrete vincere una sorpresa non completamente malvagia! Ve lo prometto! Bella festa! Già, anche se questi mostri giganti stanno un po' rovinando il mio entusiasmo. Sofia Spieth! La guidatrice più veloce di Hot Wheels City! La seconda più veloce dopo di me! Forza Elliot, dobbiamo vincere questa gara! Abbiamo vinto? Qual è la nostra sorpresa? Sorpresa! Siete degli sciocchi! In realtà ho anche un'altra piccola sorpresa! Io speravo che ci regalasse del gelato! Visto che qui intorno non c'è nessuno che vuole il gelato... Lo prenderete tutto voi! Il mio gusto preferito! Slime velenoso! Buon appetito! Sofia Spieth! Stai pensando a quello che penso anch'io? Se i vampiri non possono vedere il loro riflesso, come fanno ad avere i capelli perfetti? No! Però in realtà non ci avevo mai pensato! Io pensavo che dovremmo aiutarla! Questi mostri sono velocissimi! Neanche Sofia Speed riesce a scappare da loro! E lei è la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Beh, questo è discutibile! Molti dicono che sono io il più veloce! Ah sì? E chi lo dice? Molte persone intelligenti! Ma ora non abbiamo tempo per questo, Elliot! Mi è venuta un'idea su come possiamo fermare quei mostri! Segui me e coprimi! Ehi! Venite a prenderci tutti i mostri giganti avvalanosi! Ehm... Non mi sembra il caso di provocarli ancora di più, Elliot! Sì! Cervello ghiacciato da gelato! Un classico! E sovraccarico di zuccheri! Collasso dei mostri velenosi completato! Grazie ragazzi! Vi devo un favore! Non c'è di che, Sofia Speed! Guidatrice più veloce di Hot Wheels City! La seconda! Non mi va di continuare a ripeterlo! Voi, a cozzaglia di perdenti, sarete anche riusciti a bloccare i miei mostri! Ma niente può fermare me! Ok... E forse un serpente velenoso con il cervello ghiacciato potrebbe essere in grado di farlo! Ma non per molto! Maledetti mostri velenosi! Ehi, Elliot! Indovina cosa sto facendo? Sto pulendo il mio specchietto retrovisore! Così posso vederti meglio quando vincerò la più grande gara dell'anno e la chiave della città! Beh, indovina cosa sto facendo io, invece! Sto pulendo il mio specchietto... ...perché è un po' sporco! Sofia Speed, la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Quante altre volte dovrò ripeterlo ancora? Sono io il più veloce! Ma lei ti batte sempre! Questo non significa che è la più veloce! Beh, credo proprio di sì! Nessuno potrà battere il mio turbocompressore di slime! La chiave di Hot Wheels City presto sarà solo mia! A nessuno dei cittadini sarà permesso di opporsi al mio potere! Concorrenti, accendete i motori! Quello è Draven? Perché ha dei cerchioni luminosi? Io non mi preoccuperei, è quello che guida più piano a Hot Wheels City! Wow, non mi sembra che vada piano! Devono essere i cerchioni! Troverete dei fan speciali seduti in tribuna per questa gara! Attenzione! Prevedo che questa sarà una bella gara all'ultimo marzo! Piccolo gioco di parole da genio malvagio! Wow! Bella acrobazia in aria! Come la chiami quella tua mazzia, Elliot? Salto nell'albero! È meglio che la smettiate di perdere tempo se volete battermi! Fantastico! C'è anche una lucertola gigante! È un dinosauro! Ultime notizie! Possiamo dire che la grande gara di oggi si sia trasformata nella sfida dei tre mostri! Lo slime è il mio ingrediente preferito che mi permetterà di vincere la chiave della città! Oh! E sembra proprio che Draven stia usando lo slime per vincere! L'ho detto ad alta voce! Non importa! Tanto niente può fermarmi! Ok! E forse può farla una bambina! Ma a parte quello, sono praticamente inarrestabile! Siamo troppo indietro! È il momento del nostro brevettato colpo alla Burger Dash! Come faccio a uscire da qui? A Burger Dash è arrivato un nuovo tipo di panino! Il genio malvagio allo slime! VINCE SOFIA SPEED! Non vuol dire che è la più veloce! Ha appena battuto tutti nella più grande gara dell'anno, quindi... Hai intenzione di credere ai tuoi occhi, Elliot, o a quello che dico io? Congratulazioni, Sofia Speed! Hai vinto la chiave della città! Vi ha rubato la chiave della città, perdenti! Non dovremmo inseguirlo? Ha rubato la chiave di Hot Wheels City! Immaginavamo che Draven avrebbe fatto una cosa del genere! In realtà quella chiave non apre niente! È questa la vera chiave? Questa stupida chiave è inutile! Non apre un bel niente! Io volevo solo gelato gratis a vita! Dammi quel cono, ragazzina! Potrei dire vi avevo avvisato, ma questa volta il mio piano è completamente fallito! Mi sono autosabotato! Forza ragazzi, il gelato ve lo offro io! Andiamo all'ice cream meltdown! Arriverò io per primo, perché sono il più veloce! Non secondo la scienza! Ehi! Ciao, Ambiot! Non hai notato niente di strano? Le mie dita sono di lunghezza diversa? No! Intendevo le auto! Non hanno più i colori! Cosa sta succedendo? Sto mettendo in atto il mio piano più malvagio di sempre! Un laser decolorizzatore per rendere tutte le auto di Hot Wheels e City dei banali veicoli a due ruote noiosi e bicolori! Non ci saranno più care! Nessuno farà più acrobazie! E i colori delle auto verranno resi... Molto meno sgargianti! Cosa c'è, serpente melenoso? Devo dire che decolorizzatore è proprio un bel nome! Sto diventando davvero bravo a inventare nomi malvagli! Dobbiamo sorpassare tutte queste auto noiosi! A tavoletta! Io lo chiamo Loop Laser! Raggio Laser a ribalzo! Perché stiamo andando piano? Forward Four si sente strana senza il suo colore viola sgargiante da mostrare a contrasto con l'oro glitterato. Non riesco ad andare avanti abbastanza velocemente. Capisco bene come ti senti. Senza la mia carrozzeria nera e le sue meravigliose rifiniture rosse non mi sembra neanche di stare nella mia Night Shifter. Ehi ragazzi! Come ve la passate nella corsia delle lumache? È noiosa! Vuol dire che proseguirò da sola allora, visto che sono io a detenere il record di velocità. Bello! Come vuoi! Twin Mill! Credevo che stessi sfrecciando. Senza il suo rossacceso e i suoi cerchioni di titano, Twin Mill è solo una normale macchinina. Draven! Scommetto che è lui che sta prosciugando i colori. Tra poco diventerai il guidatore più veloce e più colorato. Esatto! Visto era questo! Il mio piano malvagio! Ve lo avevo detto che ne avevo uno! Chi è che ride adesso? Qualcuno ha visto Draven? Avete notato un raggio laser da qualche parte? Quindi è così che finiscono le nostre favolose carriere da piloti, rispettando il limite di velocità. Oh, andremo in prima per sempre. Prenditi il tuo tempo, bambina. Non abbiamo nessuna fretta. Cattive notizie, ragazzi. Non riesco a trovare Draven. Temo che resteremo noiosi per sempre. Cosa sta indicando? Il mega autolavaggio? Ci sono! Dopo l'autolavaggio, le auto sono sempre come nuove, pulite e con colori sgargianti. Quindi, credi che in questo modo le nostre auto torneranno come prima? C'è un solo modo per scoprirlo! A tavoletta! Non c'è tempo da perdere! Non così veloci! Voglio dire, letti! Ora sono io il guidatore più veloce di Hot Wheels City! Ho intenzione di superare quel serpente! Prima o poi? Di solito non facevamo qualcosa di assolutamente incredibile per affrontare situazioni come questa! Non sfrecciavamo con le nostre auto prima di diventare così... ...noiosi! Fate sfrecciare quelle ruote! Spingete su quei pedali! A tavoletta! Dobbiamo ruotare di più! Ci resta solo una cosa da fare! La derapata di Hot Wheels City! Wow! È una cosa leggendaria! Ma pericolosa! Se facciamo un piccolo errore, rischieremmo di derapare per sempre! Abbiamo una sola possibilità! Forza! Centrifuga! Io preferisco chiamarla... Abbatti il serpente! Bravo, tu piace! Mi dispiace, Dravet! Sembra che tu sia ancora ufficialmente il guidatore più lento e meno simpatico di Hot Wheels City! Beh, sembra che a Hot Wheels City sia tornato tutto alla normalità! Direi quasi tutto! Quello non è normale! No! 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 Niente può battere un viaggio al garage dopo una lunga giornata di corse! Vero, Elliot? Sono d'accordo, Chase! È come andare in vacanza con la tua persona preferita! Che in realtà è una macchina! Quanto sei poetico, amico! Questo parcheggiatore ha un aspetto familiare! Certo! Perché è Draven! No, non è vero! Io sono... Graven! Hai cambiato soltanto una lettera! Ehi, lascia stare Graven! Sta soltanto facendo il suo lavoro! Continua così, Graven! Possiamo avere un ticket? Tranquilli, non ne avrete bisogno perché non uscirete più da qui! Cosa hai detto riguardo al non uscire più? No, no, niente! Era un modo di dire! Ben garage! Sì! È come una discoteca, ma per le macchie! Parcheggiamo, ci rilassiamo e diamo un'occhiata alle altre auto! Ma che succede? È Sofia Speed! La guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Dopo di me! Ragazzi, dobbiamo risolvere questa faccenda una volta per tutte! Facciamo una gara, così vedremo chi è davvero il più veloce! È meglio che inizi a scaldare bene il tuo piccolo motore, Sofia Speed, perché ti avverto che il mio ha la carica di un vulcano! E il mio invece è... Carico, come un vulcano! Non puoi copiare quello che dico io, Elliot! Scendiamo subito! Ehi, ma come? Pensavo che stessimo scendendo! Sì, è da qui che siamo saliti! Queste sono le auto che stavamo guardando! Ah, non ne sono sicuro, Jay! Forza! Sofia ci sta aspettando! Cosa? Ora siamo all'ultimo piano! Ero completamente sicuro che stessimo scendendo! Ma che cosa sta succedendo? Draven vi dà il benvenuto! Cioè, volevo dire... Graven vi dà il benvenuto al Garage Mirage! Spero vivamente che vi piaccia, perché passerete l'eternità chiusi qui dentro, idioti! Sbaglio, ci hai appena dato degli idioti! Oh, scusate, ho detto idioti! E volevo dire... Invece io! Mi sembra tutto molto strano! Dividiamoci! Tu vai su e io vado giù! Anche tu hai la sensazione che stiamo girando in tondo! Anche tu hai la sensazione che stiamo girando in tondo! Potresti ripetere, per favore? L'ho appena fatto! Come facciamo a uscire da questo terribile Garage? Niente panico! Dobbiamo fare quello che facciamo sempre di fronte a una situazione che sembra impossibile da risolvere e richiede un'attenta pianificazione! Spingere sull'acceleratore e iniziare a sfrecciare? Bravo! Mi hai tolto le parole di bocca! Direi che non ha funzionato! Vorrei tornare a prima che entrassimo qui dentro! Esatto! C'è solo un modo per tornare al punto di partenza con un'auto! Quale sarebbe? Fare retromarcia! Siamo tornati! Ma ci hai provato, Graven! Ma siamo riusciti a scappare dal tuo Garage Mirage! Già! E Graven, potresti dire a Draven bel tentativo da parte di Chase e Elliot? Scusa se ci abbiamo messo così tanto, Sofia! Siamo rimasti intrappolati nel Garage! Ma di che cosa stai parlando? È passato soltanto un minuto! Oh! E certo! Fantastico! Si parte con la gara! Quindi preparati a sfrecciare, Speed! E poi... è meglio se guidi molto veloce! Che genio malvagio peggiore che sia mai esistito! Tu lo sei! Io sono solo un parcheggiatore! No! Tu sei me con una targhetta diversa! Ragazzi, sapete dove ho parcheggiato? Ultime notizie! Volete dei mostri velenosi e giganti in giro per la città? Ce li abbiamo! Un T-Rex gigante e velenoso? Un serpente enorme e velenoso? Al vostro servizio! Un gorilla velenoso e un po' troppo grande? Presente! Sceriffo, ci dica, cosa pensa di fare per riprendersi la città? Io? È lei lo sceriffo, no? Beh, quello che intendo fare è... Eccoci, Sir Elliot! Era questo il piano che avevo in mente? Certamente! Tranquillo, sceriffo! Ci sbarazzeremo di questi mostri giganti prima che riesca a dire vai con l'acceleratore! Vai con l'acceleratore! Ok, forse è meglio prima che riesca a dire fai un'impellata! Oppure fai spreciare quelle ruote! Potete anche provare a fermare i miei mostri, ma questa volta le cose non sono proprio come sembrano! Non è vero, serpente gigante? Forza, serpente! È il momento di andare a fare una sorpresa a quei poveri sciocchi e dirgli un bel ciao ciao da parte mia! No, certo! Lo so bene che non parli! Tu sigla e basta! Dove sono i mostri? Lì! Dove? Oh, è lì! Come fa questo serpente a scomparire magicamente? Non lo so, ma mi è venuta un'idea! Visto che i mostri di Draven sono tornati, basterà fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'ultima volta! Bella pensata! Hai ragione, è un déjà vu! Ehi, rettile grande e grosso! Vieni qui! Questo sì che era un bel déjà fatto! Tocca il gorilla! Lo abbiamo indemolito! Ancora un ultimo sforzo! Serpente gigante e velenoso? Eliminato! Gorilla gigante e velenoso? Eliminato! Ne manca soltanto uno! Aspetta, fammi indovinare! Il T-Rex gigante e velenoso! Speriamo che i nostri airbag funzionino! Immaginavo aveste bisogno di aiuto! O di un paraurti! Abbiamo sconfitto i mostri giganti e velenosi! Déjà fatto! Non parlate troppo presto, ragazzi! Sembra che i Draven stia usando una specie... Ehi, ma da dove sono venuti fuori? Di nuovo! Perché sono ancora qui? Stavo dicendo che sembra che i Draven stia usando una specie di teletrasporto slime per farli spostare! Non preoccuparti! Abbiamo tutto sotto controllo! Sì! Decisamente! Ehi, Chase! Qual è l'oposto di... Decisamente! Forza! Dobbiamo ripetere tutto da capo! Non servirà a niente! Continuano a usare il teletrasporto senza sosta! Questo decisamente non è un déjà fatto! Aspettate un attimo! Ci sono! Possiamo usare il loro teletrasporto a nostro vantaggio! Chase ed Elio! Facciamo la manovra dei mostri! Continuate a girare per la città! Dobbiamo cercare di raggiuparli il più possibile! Direi che abbiamo ottenuto un bel miscuglio di mostri! A proposito di cose che si ripetono continuamente... Dov'è finito, Draven? Avrete anche sconfitto i miei mostri oggi! Ma il divertimento è appena iniziato! E con divertimento intendo proprio il contrario! Perché le cose si mettono molto male! Ecco come stavo dicendo! Molto, molto male! Qualcuno può togliermi questi mostri di dosso? Ecco un'ultima notizia per voi! A Twins City sta subendo un feroce attacco dei miei mostri! Draven sta mettendo in atto il suo piano più malvagio di sempre! Il teletrasporto di slime velenoso! Cosa? Come fanno a conoscere il mio piano più malvagio di sempre? Sembra che si sia ripreso accidentalmente dal suo nascondiglio! E noi siamo riusciti ad avere il filmato! Ah, è vero! È andata proprio così! Ops! Ora ne ho abbastanza di questi mostri giganti e velenosi! Non può andare peggio di così! Ragazzi, sta andando sempre peggio! Aiuto! No, ho sbagliato di nuovo! Ehi, è tornata Queen! Ho in mente un piano! Dovete attirare Draven fuori dal suo nascondiglio malvagio! Ok, ma ci servirà un'altra persona per riuscirti! Sophia Speed! Puoi dire... Sì! Dopotutto è lei la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Wow! Non pensavo che l'avresti mai ammesso! Credi che sia questo il nascondiglio? Beh, è inquietante! Sinistro? È decisamente tenebroso e minaccioso! Uh, guardate! C'è anche un serpente velenoso! È sicuramente il suo nascondiglio! Ehi, che cosa sta succedendo? Sto cercando di fare le mie cose malvagie qui! Andatevele via nel mio vialetto malvagio! Ehi! Quello è il mio teletrasporto di slime velenoso! Ridammelo! Dovrai prima riuscire a prendere la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Ultime notizie! Si sta svolgendo l'inseguimento ad alta velocità più grande della storia di Hot Wheels City! Accidenti! Questi inutili sciocchi non sanno che persino il mio telecomando ha un telecomando! E stanno tutti per cadere in trappola! Ultime notizie! Stanno tutti per cadere in una trappola! Cosa? E lei come ha fatto a saperlo? Mi stavo riprendendo? Di nuovo? E non importa! Tanto è troppo tardi! Cosa? Da dove vengono tutti questi edifici? Di nuovo questi mostri! Credevo avessimo preso il telecomando! Ora i miei mostri distruggeranno le vostre auto una volta per tutte! E io potrò guidare tranquillamente la mia lafasta! Che così diventerà ufficialmente l'auto più bella e più veloce di tutte qui ad Hot Wheels City! Scattatevi una foto mentre vinco! La verità è che stai per finire in un posto molto lontano, Draven! Megadrom! No, non è giunto! Mi avete ingannato! Io tornerò! Non potete fermare, Draven! Beh, quindi sembra che rimarremo a Hot Wheels City ancora a lungo! Allora, Chase, ti ho sentito dire che sono la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Beh, ho detto tante cose, ma sei stata bravissima con quei mostri velenosi giganti! Anche tu! Sarai anche la più veloce per adesso! Ma aspetta di vedere la mia nuova auto! E questo è il bello di Hot Wheels City! Tutti possono essere più veloci! Ultime notizie! Non ci sono né slime né mostri giganti oggi a Hot Wheels City! Immagino che tecnicamente questa non sia una notizia! Ah, e gli eroi locali Chase ed Elliot stanno consegnando hamburger per Burger Dash! E neanche questa è una vera notizia! E il lato positivo è che ancora non ci sono slime o mostri in città! Un hamburger per te, un hamburger anche per te! Ecco il tuo hamburger! Un altro hamburger per te! 3,70! Ho battuto il record, Elliot! Ha! 3,69! Sto mirando la tua corona, Chase! Dovresti prendere meglio la mira, allora! Quello non conta! Mi andrebbe un hamburger! Sì, i cetriolini sono i miei preferiti! A me non piacciono! Sono più un tipo da formaggio fuso! Una notizia bomba a ultime notizie! Dimenticate quello che ho detto su slime e mostri! Sono arrivati! È meglio che vi mettiate al riparo! Abbiamo un'allerta codice 2, siamo messi molto male! Credo di sapere cos'è successo al pizzione e serifo... I cetriolini! No, credo che sia ben più grave di una brutta allergia alimentare! Ho trovato dei barili di slime a Burger Dash! Devono essere rimasti lì dall'ultima volta che Draven è venuto qui! E ora noi abbiamo consegnato gli hamburger con lo slime! Il piccione deve averne mangiato uno! Aspetta un attimo! Voi fate le consegne? Buono a sapersi! Ora, se volete scusarmi, devo occuparmi di un uccello gigante! Dobbiamo andare a riprenderci gli hamburger prima che inizino a mangiarli! Cetriolini! Abbiamo un bel problema! Credo di sapere chi è la persona giusta che può aiutarci! Cetriolini! Ma come ci sei riuscita, Quinn? Biforcazione del continuum spazio-temporale! Oh, sì, ma certo! Una cosa semplice, ovvio! Lo stavo chiedendo per conto di Elliot! Cetriolini! Cosa succede, ragazzi? Quello! Abbiamo proprio bisogno di un ingegnere aerospaziale intelligente e pragmatico! Innanzitutto dobbiamo catturare il piccione! E io so come fare! Com'è che si chiama quella specie di enorme raggio spaziale? È un micronizzatore interdimensionale aviario mutato! Puoi ripetere, per favore? Un riduttore di piccioni! Così fa molto più effetto, grazie! Attiratelo in uno spazio aperto, così possa avere una buona visuale! Ricevuto, Quinn! Ehi, bell'uccellino! Vieni qui a prendere un po' di slime! Devi tenerlo lontano dagli edifici! So esattamente dove andare! C'è un posto che i piccioni trovano irresistibile! Esatto, topo volante! Una bella statua! Sai cosa fare! Così piccolo, è davvero bellissimo! Ora cosa facciamo con tutto questo slime? C'è tre linee! E con Elliot? C'è solo una persona che può aiutarci! Qualcuno che conosce lo slime perfettamente! Wow! No! Non starai dicendo quello che penso! Accidenti! C'è tre linee! Attenzione! Ultime notizie! Chase ed Elliot hanno consegnato hamburger contaminati da slime velenoso in tutta la città! E ora sono tutti diventati degli zombie! Decisamente una notizia che non si sente tutti i giorni! A meno che non viviate a Hot Wheels City! Queen, sai cos'è più divertente di un gruppo di zombie che vanno a sbattere dappertutto? No! Cosa? Praticamente qualsiasi cosa! C'è tre linee! Quindi, quale sarebbe il piano? È Draven ad aver creato lo slime e ci aiuterà a sbarazzarci! Draven di solito non è molto collaborativo, essendo un genio pazzo e malvagio, sai com'è! E poi, al momento, non è in una prigione a gravità zero! Lascia fare a me! Allora, quale piano super tecnologico hai in mente per tirare fuori Draven? Una roba di fisica quantistica, immagino! Una cosa del genere! Resta dietro di me! Draven, salta su! Ehi, come va? Ti faremo uscire di qui se ci aiuterai a fermare lo slime! Ah, Queen, abbiamo un allarme zombie al momento! Reggetevi forte! Ci inseriremo nel buco nero di ciambella! Lo sapevo che aveva pronto un piano di alta tecnologia! Cetriolini! Aspetta, hai appena detto buco nero! Questo piano proprio non mi piace! Cetriolini! Tenete duro! Ok, Draven, ti abbiamo liberato! Ora devi prepararci l'antidoto per lo slime! Come va? Gli effetti della gravità zero prolungata hanno evidentemente alterato la sua chimica cerebrale! Sicuramente il buco nero che abbiamo appena attraversato non è stato d'aiuto! Cetriolini! L'unica cosa che può sistemare gli effetti della gravità zero è il super loop! Dobbiamo solo superare tutti questi zombie! Ma come hanno fatto a prendere la patente? Ci penso io ad attirarli! Tu vai nel loop! Come va? Forse devo far riequilibrare le mie ruote! Ci voleva un bell'odore di fresco in una macchina guidata da uno zombie! Credo che Draven abbia fatto abbastanza giri nel loop! Qual è il tuo nome? Mi chiamo Queen Cosmic! Sembra che ancora non si sia ripreso dalla gravità zero! Tu ti chiami Draven! Sei un genio malvagio! Ti viene in mente qualcosa che possa annullare l'effetto dello slime? Qualsiasi cosa? Pensa! No! Non mi dice proprio niente! Cetriolini! No, amico! Quelli non sono cetriolini! Sono solo un mucchio di barili sotto un telo che contengono l'antidoto allo slime! Il siero annulla zombie! Draven deve averlo nascosto lì! Beh, direi che ci sarà utile! Ma perché l'ha nascosto proprio qui? Non importa! Dobbiamo sporgere questo antidoto! Abbiamo tolto l'effetto dello slime! È bello riaverti qui! Ho fame! Possiamo prendere un hamburger con doppia porzione di cetriolini! Non sarebbe meglio una pizza! Ultime notizie! Draven, il nostro genio malvagio di Hot Wheels City, ha organizzato una festa di compleanno a cui sono invitati tutti i suoi amici mostri! Cosa mai potrebbe andare storpo? Che cosa? Draven si riunirà con tutti i suoi amici mostri velenosi? Già! È il suo compleanno e quelli sono i suoi unici amici! E poi non sono più velenosi! Ormai hanno tutti l'antidoto, ricordi? Questa storia non mi convince, Chase! E cosa ne dite di un castello gonfiabile? Ci sarà davvero un castello gonfiabile! Fantastico! Non preoccupatevi, amici miei! Tornerete ad essere mostruosamente velenosi molto presto! Che cosa hai detto riguardo ai mostri velenosi, Draven? Ah, no ragazzi, state tranquilli! Avevi un sorriso malvagio e ti stavi sfregando le mani! Sono solo emozionato per la festa! Adesso, se volete scusarmi, devo sbrigarmi ad andare al cimitero a dissotterrare altro slime velenoso! Cosa? Come hai detto? Era un modo di dire! Ciao, ragazzi! C'è decisamente qualcosa che non mi convince qui! Vuoi dire che non ci sarà un castello gonfiabile? Vi do il benvenuto alla mia festa di compleanno! Potrete provare la gara di guida di Draven! Eseguite le vostre migliori acrobazie per atterrare sul castello gonfiabile e potrete vincere una sorpresa non completamente malvagia! Ve lo prometto! Bella festa! Già, anche se questi mostri giganti stanno un po' rovinando il mio entusiasmo! Sofìa, la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! La seconda più veloce, dopo di me! Forza, Elliot! Dobbiamo vincere questa gara! Abbiamo vinto? Qual è la nostra sorpresa? Sorpresa! Siete degli sciocchi! In realtà ho anche un'altra piccola sorpresa! Io speravo che ci regalasse del gelato! Visto che qui intorno non c'è nessuno che vuole il gelato... Lo prenderete tutto voi! Il mio gusto preferito! Slime velenoso! Buon appetito! Sofia Speed! Stai pensando a quello che penso anch'io? Se i vampiri non possono vedere il loro riflesso, come fanno ad avere i capelli perfetti? No! Però in realtà non ci avevo mai pensato! Io pensavo che dovremmo aiutarla! Questi mostri sono velocissimi! Neanche Sofia Speed riesce a scappare da loro! E lei è la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Beh, questo è discutibile! Molti dicono che sono io il più veloce! Ah sì? E chi lo dice? Molte persone intelligenti! Ma ora non abbiamo tempo per questo, Elliot! Mi è venuta un'idea su come possiamo fermare quei mostri! Segui me e coprimi! Ehi! Venite a prenderci brutti mostri giganti e malanosi! Eh... Non mi sembra il caso di provocarli ancora di più, Elliot! Cervello ghiacciato da gelato! Un classico! E... Sovraccarico di zuccheri! Collasso dei mostri velenosi completato! Grazie, ragazzi! Vi devo un favore! Non c'è di che, Sofia Speed! Guidatrice più veloce di Hot Wheels City! La seconda! Non mi va di continuare a ripeterlo! Voi, a cozzaglia di perdenti, sarete anche riusciti a bloccare i miei mostri! Ma niente può fermare me! Ok... E forse un serpente velenoso con il cervello ghiacciato potrebbe essere in grado di farlo! Ma non per molto! Maledetti mostri velenosi! Ehi, Elliot! Indovina cosa sto facendo? Sto pulendo il mio specchietto retrovisore! Così posso vederti meglio quando vincerò la più grande gara dell'anno e la chiave della città! Beh, indovina cosa sto facendo io, invece! Sto pulendo il mio specchietto... Perché è un po' sporco! Sofia Speed! La guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Quante altre volte dovrò ripeterlo ancora? Sono io il più veloce! Ma lei ti batte sempre! Questo non significa che è la più veloce! Beh, credo proprio di sì! Nessuno potrà abbattere il mio turbocompressore di slime! La chiave di Hot Wheels City presto sarà solo mia! Nessuno dei cittadini sarà permesso di opporsi al mio potere! Concorrenti, accendete i motori! Quello è Draven! Per chi ha dei cerchioni luminosi? Io non mi preoccuperei, è quello che guida più piano a Hot Wheels City! Wow! Non mi sembra che vada piano! Devono essere i cerchioni! Troverete dei fan speciali seduti in tribuna per questa gara! Attenzione! Prevedo che questa sarà una bella gara all'ultimo marzo! Piccolo gioco di parole da genio malvagio! Wow! Bella acrobazia in aria! Come la chiami quella acrobazia, Elliot? Salto nell'albero! È meglio che la smettiate di perdere tempo se volete battermi! Fantastico! C'è anche una lucertola gigante! È un dinosauro! Ultime notizie! Possiamo dire che la grande gara di oggi si sia trasformata nella sfida dei tre mostri! Lo slime è il mio ingrediente preferito che mi permetterà di vincere la chiave della città! Oh! E sembra proprio che Draven stia usando lo slime per vincere! L'ho detto ad alta voce! Non importa! Tanto niente può fermarmi! Ok! E forse può farla una bambina! Ma a parte quello, sono praticamente inarrestabile! Siamo troppo indietro! È il momento del nostro brevettato colpo alla Burger Dash! Come faccio a uscire da qui? A Burger Dash è arrivato un nuovo tipo di panino! Il genio malvagio allo slime! VINCE SOFIA SPEED! Non vuol dire che è la più veloce! Ha appena battuto tutti nella più grande gara dell'anno! Quindi... Hai intenzione di credere ai tuoi occhi, Elliot? O a quello che dico io? Congratulazioni, Sofia Speed! Hai vinto la chiave della città! E ha rubato la chiave della città! Perdenti! Non dovremmo inseguirlo? Ha rubato la chiave di Hot Wheels City! Immaginavamo che Draven avrebbe fatto una cosa del genere! In realtà quella chiave non apre niente! È questa la vera chiave? Questa stupida chiave è inutile! Non apre un bel niente! Io volevo solo gelato gratis a vita! Dammi quel cono, ragazzina! Potrei dire vi avevo avvisato, ma questa volta il mio piano è completamente fallito! Mi sono autosabotato! Forza ragazzi! Il gelato ve lo offro io! Andiamo all'ice cream meltdown! Arriverò io per primo perché sono il più veloce! Non secondo la scienza! Ehi! Ciao, Ambiot! Non hai notato niente di strano? Le mie dita sono di lunghezza diversa? No! Intendevo le auto! Non hanno più i colori! Cosa sta succedendo? Sto mettendo in atto il mio piano più malvagio di sempre! Un laser decolorizzatore per rendere tutte le auto di Hot Wheels City dei banali veicoli a due ruote noiosi e bicolori! Non ci saranno più care! Nessuno farà più acrobazie! E i colori delle auto verranno resi... molto meno sgargianti! Cosa c'è, serpente velenoso? Devo dire che decolorizzatore è proprio un bel nome! Sto diventando davvero bravo a inventare nomi malvagli! Dobbiamo sorpassare tutte queste auto noiosi! A tavoletta! Io lo chiamo! Loop Laser! Branccio laser a ripalzo! Perché stiamo andando piano? Forward Four si sente strana senza il suo colore viola sgargiante da mostrare a contrasto con l'oro glitterato. Non riesco ad andare avanti abbastanza velocemente. Capisco bene come ti senti. Senza la mia carrozzeria nera e le sue meravigliose rifiniture rosse, non mi sembra neanche di stare nella mia Night Shifter. Ehi ragazzi, come ve la passate nella corsia delle lumache? È noiosa. Vuol dire che proseguirò da sola allora, visto che sono io a detenere il record di velocità. Bello. Come vuoi? Twin Mill! Credevo che stessi spreciando. Senza il suo rossacceso e i suoi cerchioni di titano, Twin Mill è solo una normale macchinina. Driven! Scommetto che è lui che sta prosciugando i colori. Tra poco diventerai il guidatore più veloce e più colorato. Esatto! Visto era questo! Il mio piano malvagio. Ve lo avevo detto che ne avevo uno. Chi è che ride adesso? Qualcuno ha visto Driven? Avete notato un raggio laser da qualche parte? Quindi è così che finiscono le nostre favolose carriere da piloti, rispettando il limite di velocità. Andremo in prima per sempre. Prenditi il tuo tempo, bambina. Non abbiamo nessuna fretta. Cattive notizie, ragazzi. Non riesco a trovare Driven. Temo che resteremo noiosi per sempre. Cosa sta indicando? Il mega autolavaggio? Ci sono! Dopo l'autolavaggio, le auto sono sempre come nuove, pulite e con colori sgargianti. Quindi credi che in questo modo le nostre auto torneranno come prima? C'è un solo modo per scoprirlo. A tavoletta! Non c'è tempo da perdere! Non così veloci, voglio dire, letti. Ora sono io il guidatore più veloce di Hot Wheels City. Ho intenzione di superare quel serpente. Prima o poi. Di solito non facevamo qualcosa di assolutamente incredibile per affrontare situazioni come questa. Non sfrecciavamo con le nostre auto prima di diventare così... noiosi. Fate sfrecciare quelle ruote! Spingete su quei pedali! A tavoletta! Dobbiamo ruotare di più. Ci resta solo una cosa da fare. La derapata di Hot Wheels City. Wow! È una cosa leggendaria! Ma pericolosa! Se facciamo un piccolo errore, rischieremmo di derapare per sempre. Abbiamo una sola possibilità. Forza! Centrifuga! Io preferisco chiamarla Abbatti il Serpente! Bravo, mi piace! Mi dispiace, Dravet. Sembra che tu sia ancora ufficialmente il guidatore più lento e meno simpatico di Hot Wheels City. Beh, sembra che a Hot Wheels City sia tornato tutto alla normalità. Direi quasi tutto. Quello non è normale. No. Niente può battere un viaggio al garage dopo una lunga giornata di corse. Vero, Ennio? Sono d'accordo, Chase. È come andare in vacanza con la tua persona preferita, che in realtà è una macchina. Quanto sei poetico, amico! Questo parcheggiatore ha un aspetto familiare. Certo, perché è Draven. No, non è vero! Io sono... Graven! Hai cambiato soltanto una lettera. Ehi, lascia stare Graven! Sta soltanto facendo il suo lavoro. Continua così, Graven! Possiamo avere un ticket? Tranquilli, non ne avrete bisogno perché non uscirete più da qui. Cosa hai detto riguardo al non uscire più? No, niente! Era un modo di dire. Bel garage! Sì, è come una discoteca, ma per le macchie. Parcheggiamo, ci rilassiamo e diamo un'occhiata alle altre auto. Ma che succede? È Sofia Speed! La guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Dopo di me! Ragazzi, dobbiamo risolvere questa faccenda una volta per tutte. Facciamo una gara, così vedremo chi è davvero il più veloce. È meglio che inizi a scaldare bene il tuo piccolo motore, Sofia Speed, perché ti avverto che il mio ha la carica di un vulcano. E il mio invece è... Carico come un vulcano? Non puoi copiare quello che dico io, Elliot! Scendiamo subito! Ehi, ma come? Pensavo che stessimo scendendo. Sì, è da qui che siamo saliti. Queste sono le auto che stavamo guardando. Ah, non ne sono sicuro, Jay. Forza! Sofia ci sta aspettando! Cosa? Ora siamo all'ultimo piano. Ero completamente sicuro che stessimo scendendo. Ma che cosa sta succedendo? Draven vi dà il benvenuto... Cioè, volevo dire... Graven vi dà il benvenuto al Garage Mirage! Spero vivamente che vi piaccia, perché passerete l'eternità chiusi qui dentro, idioti! Sbaglio? Ci hai appena dato degli idioti? Oh, scusate, ho detto idioti? Volevo dire... Invece io! Mi sembra tutto molto strano. Dividiamoci. Tu vai su e io vado giù. Anche tu hai la sensazione che stiamo girando in tondo? Anche tu hai la sensazione che stiamo girando in tondo? Potresti ripetere, per favore? L'ho appena fatto! Come facciamo a uscire da questo terribile Garage? Niente panico. Dobbiamo fare quello che facciamo sempre di fronte a una situazione che sembra impossibile da risolvere e richiede un'attenta pianificazione. Spingere sull'acceleratore e iniziare a sfrecciare? Bravo, mi hai tolto le parole di bocca. Direi che non ha funzionato. Vorrei tornare a prima che entrassimo qui dentro. Esatto! C'è solo un modo per tornare al punto di partenza con un'auto. Quale sarebbe? Fare retromarcia! Siamo tornati! Ma ci hai provato, Graven. Ma siamo riusciti a scappare dal tuo Garage Mirage. Già. E, Graven, potresti dire a Draven Bel tentativo da parte di Chase e Elliot. Scusa se ci abbiamo messo così tanto, Sofia. Siamo rimasti intrappolati nel Garage. Ma di che cosa stai parlando? È passato soltanto un minuto. Oh, certo. Fantastico. Si parte con la gara. Quindi preparati a sfrecciare, Speed. E poi... E' meglio se guidi molto veloce. Che genio malvagio peggiore che sia mai esistito! Tu lo sei! Ah, ah! Io sono solo un parcheggiatore! No! Tu sei me con una targhetta diversa! Ragazzi, sapete dove ho parcheggiato? Ultime notizie! Volete dei mostri velenosi e giganti in giro per la città? Ce li abbiamo! Un T-Rex gigante e velenoso? Un serpente enorme e velenoso? Al vostro servizio! Un gorilla velenoso e un po' troppo grande? Presente! Scheriffo, ci dica, cosa pensa di fare per riprendersi la città? Io? È lei lo scheriffo, no? Beh, quello che intendo fare è... Eccoci, Chase Elliot! Era questo il piano che avevo in mente? Certamente! Tranquillo, scheriffo! Ci sbarazzeremo di questi mostri giganti prima che riesca a dire vai con l'acceleratore! Vai con l'acceleratore! Ok, forse è meglio prima che riesca a dire fai un'impennata! Oppure... Vai spreciare quelle ruote! Potete anche provare a fermare i miei mostri! Ma questa volta le cose non sono proprio come sembrano! Non è vero, serpente gigante? Forza, serpente! È il momento di andare a fare una sorpresa a quei poveri sciocchi e dirgli un bel ciao ciao da parte mia! No, certo! Lo so bene che non parli! Tu sigla e basta! Dove sono i mostri? Lì! Dove? Oh, è lì! Come fa questo serpente a scomparire magicamente? Non lo so, ma mi è venuta un'idea! Visto che i mostri di Draven sono tornati, basterà fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'ultima volta! Bella pensata! Hai ragione, è un déjà vu! Ehi, rettile grande e grosso! Vieni qui! Questo sì che era un bel déjà fatto! Tocca il gorilla! Lo abbiamo indemolito! Ancora un ultimo sforzo! Serpente gigante e velenoso? Eliminato! Gorilla gigante e velenoso? Eliminato! Ne manca soltanto uno! Aspetta, fammi indovinare! Il T-Rex gigante e velenoso! Speriamo che i nostri airbag funzionino! Immaginavo aveste bisogno di aiuto! O di un paraurti! Abbiamo sconfitto i mostri giganti e velenosi! Déjà fatto! Non parlate troppo presto, ragazzi! Sembra che Draven stia usando una specie... Ehi, ma da dove sono venuti fuori? Di nuovo! Perché sono ancora qui? Stavo dicendo che sembra che Draven stia usando una specie di teletrasporto slime per farli spostare! Non preoccuparti! Abbiamo tutto sotto controllo! Sì! Decisamente! Ehi, Chase! Qual è l'oposto di... Decisamente? Forza! Dobbiamo ripetere tutto da capo! Non servirà a niente! Continuano a usare il teletrasporto senza sosta! Questo decisamente non è un déjà fatto! Aspettate un attimo! Ci sono! Possiamo usare il loro teletrasporto a nostro vantaggio! Chase ed Elio, facciamo la manovra dei mostri! Continuate a girare per la città! Dobbiamo cercare di raggiuparli il più possibile! Direi che abbiamo ottenuto un bel miscuglio di mostri! A proposito di cose che si ripetono continuamente... Dov'è finito Draven? Avrete anche sconfitto i miei mostri oggi! Ma il divertimento è appena iniziato! E con divertimento intendo proprio il contrario! Perché le cose si mettono molto male! Ecco come stavo dicendo! Molto, molto male! Qualcuno può togliermi questi mostri di dosso? Ecco un'ultima notizia per voi! Hot Wheels City sta subendo un veloce attacco dei miei mostri! Draven sta mettendo in atto il suo piano più malvagio di sempre! Il teletrasporto di slime velenoso! Come fanno a conoscere il mio piano più malvagio di sempre? Sembra che si sia ripreso accidentalmente dal suo nascondiglio e noi siamo riusciti ad avere il filmato! Ah, è vero! È andata proprio così! Ops! Ora ne ho abbastanza di questi mostri giganti e velenosi! Non può andare peggio di così! Ragazzi, sta andando sempre peggio! Aiuto! No, ho sbagliato di nuovo! Ehi, è tornata Queen! Ho in mente un piano! Dovete attirare Draven fuori dal suo nascondiglio malvagio! Ok, ma ci servirà un'altra persona per riuscirci! Sophia Speed! Puoi dire... Sì! Dopotutto, è lei la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Wow! Non pensavo che l'avresti mai ammesso! Credi che sia questo il nascondiglio? Beh... È inquietante! Sinistro? È decisamente tenebroso e minaccioso! Uh, guardate! C'è anche un serpente velenoso! È sicuramente il suo nascondiglio! Ehi, che cosa sta succedendo? Sto cercando di fare le mie cose malvagie qui! Andatevene via nel mio violetto malvagio! Ehi! Quello è il mio teletrasporto di slime velenoso! Ridammelo! Dovrai prima riuscire a prendere la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Ultime notizie! Si sta svolgendo l'inseguimento ad alta velocità più grande della storia di Hot Wheels City! Accidenti! Questi inutili sciocchi non sanno che persino il mio telecomando ha un telecomando! E stanno tutti per cadere in trappola! Ultime notizie! Stanno tutti per cadere in una trappola! Cosa? E lei come ha fatto a saperlo? Mi stavo riprendendo! Di nuovo! E non importa! Tanto è troppo tardi! Cosa? Da dove vengono tutti questi edifici? Di nuovo questi mostri! Credevo avessimo preso il telecomando! Ora i miei mostri distruggeranno le vostre auto una volta per tutte! E io potrò guidare tranquillamente la mia lafasta! Che così diventerà ufficialmente l'auto più bella e più veloce di tutte qui a Hot Wheels City! Scattatevi una foto mentre vinco! La verità è che stai per finire in un posto molto lontano, Draven! Megadrom! No, non è giunto! Mi avete ingannato! Io tornerò! Non potete fermare, Draven! Beh, quindi sembra che rimarremo a Hot Wheels City ancora a lungo! Allora, Chase, ti ho sentito dire che sono la guidatrice più veloce di Hot Wheels City! Beh, ho detto tante cose, ma sei stata bravissima con quei mostri velenosi giganti! Anche tu! Sarai anche la più veloce per adesso! Ma aspetta di vedere la mia nuova auto! È questo il bello di Hot Wheels City! Tutti possono essere i più veloci! Grazie!